buongiorno a tutti sono lorenzo ganglia rossa sono un ex allievo della scuola civica di cinema faccio il produttore di serie televisive e di film per una scelta che si chiama wild side che fa parte del gruppo frimanto negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare e produrre progetti con grandi tanti italiani come parla cortellesi paolo sorrentino luca guadagnino salario costanzo ammaniti nicola maniti ed anche molti talenti internazionali vincitore di premi oscar come ronauer wdi allen e dr berger e paolo pavrikovsky negli ultimi tre anni diciamo gli ultimi film che ho prodotto sono c'è ancora domani di paolo cortellesi le otto montagne tratto al bestia di paolo cognetti che peraltro è un altro ex allievo della scuola che ho conosciuto durante la scuola e vincitore il film del premio della giuria can sia del david donatello come miglior film del 2023 e finalmente l'alba di salario costanzo che adesso al cinema e spero che andate a vederlo mi dispiace non essere lì con voi perché ho un rapporto speciale con la scuola è stato un luogo dove secondo me che cresceva a milano nel periodo in cui sono cresciuto poteva sognare di diventare un lavoratore del mondo dello spettacolo e per me è stato un luogo dove mi è stata data la possibilità di produrre il mio primo film e il posto che mi ha dato gli strumenti per fare il mestiere che faccio oggi quindi spero che per tutti voi sia lo stesso e credo veramente che istituzioni con la fondazione milano siano fondamentali per i sogni di entrare in questi mondi e fondamentali per chi a milano vuole conoscere affrontare il proprio sogno buona giornata